Per avere Touch Portal sul tuo computer PC o Mac vai innanzitutto nel sito touchportal-.com poi fai download dunque se hai un Mac scarica la versione per il Mac se hai un PC chiaramente scarica il PC questi due software sono il software che ti permette di editare i tasti e il software che ti fa da ponte per il tuo device tablet o iPad stessa cosa per tablet e iPad allora l'applicazione è gratuita ma fai soltanto due pagine e qualche tasto e non puoi caricare immagini, nient'altro chiaramente l'applicazione è completa, costa 13,99€ la puoi acquistare soltanto tramite tablet o iPad comunque sono soldi ben spesi perché veramente funziona benissimo ed è molto affidabile per farsi tutte le scorciatoie una volta installata l'applicazione si ripresenta così se utilizzi un Mac dovrai aderire tutte le varie privacy e quant'altro che farai tramite preferenze di sistema qui in privacy la metti in accessibilità qui e poi questo programma all'avvio del computer non parte da solo lo dovrai fare qui su utenti e gruppi fai elenchi login e lo aggiungi da qui lo aggiungi da lì e poi si avvierà automaticamente da solo fatta l'installazione su computer ti porti sul tuo tablet o iPad vai nell'app store dedicato te la scarichi come ho detto conviene acquistarla perché è veramente geniale una Stream Deck con 15 tasti io l'ho pagata a 180€ qui parliamo di 14€ fatto questo sul tuo device vai in settings e trova la voce IP address desktop application inserisci il tuo ID del computer che trovi nelle configurazioni di rete assicurati che il bollino verde qui se compare questo è fatta qui vedrai l'indirizzo IP del tuo computer e successivamente ti darò o ti avrò già dato la pagina con tutte le icone da caricare qui se ti ho dato il file pagina fcpx shortcuts le puoi caricare da qui fai importa la vai a cercare e te la trovi così questa qui è la versione successivamente riceverai degli aggiornamenti con dei tasti aggiuntivi mano a mano che ne realizzo di nuovi ovviamente questi qui sono i tasti che a me servono all'interno del pacchetto che hai scaricato troverai anche le pagine e tutte le icone di Final Cut che sono queste qui ogni pagina ha una sua funzione perciò qui c'è il marker ok qui c'è Windows tutte le varie funzioni così allora concentriamoci un attimo sulla main per collegare tutte queste pagine tra di loro nella main main dovrai creare dei tasti relativi alle pagine appena create questo qui faccio vedere da capo come si fa ad esempio io voglio collegare questa pagina qui perché altrimenti non la vedresti nel tablet o ipad non le vedresti queste pagine se non fai un link nella diciamo così nella main nella home di questa applicazione qui se tu vuoi collegare questi questa pagina vai nella main ti porti su un tasto libero dove vuoi no? fai clic poi chiaramente il comando è questo go to page e se tu metti questo go to page ti farà ti darà un elenco dove tu andrai a sceglierti la pagina da collegare puoi fare un testo qui ci sono le varie formattazioni del testo puoi scegliere se essere se avere uno sfondo trasparente in noi colori qui è l'icona full screen full size e qui vai a cercarti tutte le icone insomma questa parte qui è molto semplice non te la spiego neanche fatto questo è finita praticamente la pagina è collegata vai nel tuo dispositivo e ti troverai appunto il tasto appena creato stessa cosa ad esempio questo tasto qui è open start application che è questa qui perciò puoi veramente fare migliaia di pagine per migliaia di software migliaia di scorciatoie con un costo veramente che fa ridere 14 euro io ti ripeto la string decro pagata 180 euro c'hai 15 tasti è vero che puoi farti le pagine anche lì però 15 tasti non sono un granché poi le icone sono veramente piccole anche questa pagina qui che sto realizzando per Lightroom è veramente bella Premiere Pro OBS puoi anche usare puoi farti anche una pagina per DaVinci e quant'altro in futuro realizzerò delle icone dedicate per DaVinci per Premiere queste qui le ho acquistate volendo insomma ne parliamo dopo e questo è veramente molto molto semplice ogni volta che tu crei una pagina chiaramente gli dai un nome ma va collegata nella main quando tu crei una pagina se facciamo prova automaticamente ti creerà un goto main per forza così almeno puoi tornare indietro altrimenti nel tuo dispositivo avrai una pagina completamente nera e non sai come uscirne è appunto l'unico modo per uscirne è collegare le pagine tra di loro qui puoi scegliere la grandezza dei tasti più piccoli sono chiaramente e devi scegliere il tuo giusto compromesso puoi mettere un'immagine di background io ad esempio sto sperimentando questa pagina questo tasto qui correction vado a collegarmi le wheels mi sto in fase sperimentale ho realizzato diciamo dei comandi per la correction insomma non funziona benissimo però ci sto lavorando devo capire un attimino come poterlo migliorare insomma ecco questo è tutto è veramente semplice insomma una volta scaricate le applicazioni per entrambi i dispositivi e appunto lo colleghi collegare è veramente facilissimo basta mettere l'ip sul tuo device e il gioco è fatto insomma ok a presto